Siamo nei sogni dei bambini, nelle città che rinascono, nelle strade che percorri, nei punti che attraversi, nella tua casa dei sogni, nelle tue idee. Sicuramente passione, 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 curiosità, soddisfazione, condivisione, concretezza, senso di responsabilità, gioco di squadra, non arrendersi mai. Siamo nelle opere che recuperiamo, nella materia che lavoriamo, nella qualità delle cose, nella sicurezza per i nostri addetti, nella formazione, nel benessere collettivo. Fatica e giorni. Costruttività. E amore. Amore? In fine se lo metterei. L'edilizabilità. Il 20% di tutta la nostra economia dipende dal comparto dell'edilizia. Un miliardo di investimenti nella nostra categoria porta al minimo 17.000 operai a lavorare. Si capisce che l'economia italiana sorride quando noi lavoriamo. In una terra meravigliosa, siamo la voce di quasi l'80% delle imprese edili dell'Abruzzo. Tra le associazioni di categoria, la nostra più rappresentativa è la più grande. Siamo un interlocutore istituzionale. Siamo da sempre al fianco delle imprese e dei lavoratori. Siamo nelle aziende sane della nostra terra. La soddisfazione più grande è rimanere nei programmi di l'alunno. Perché quello significa serietà, programmazione. Quando si porta a terra la soddisfazione è... ...bondissima. Nella tradizione e nell'innovazione. Oggi l'edilizia è tecnologia. Nel futuro sostenibile. Per una donna significa essere ancora più competente e più determinata. Siamo all'avanguardia nella formazione e nella sicurezza. Oggi l'Italia ha bisogno di questo. Il mio lavoro mi piace, lo faccio felicemente tutti i giorni. Siamo ANCE Abruzzo. Associazione nazionale costruttori edili dell'Abruzzo. Siamo nelle cose che vedi intorno a te.